Aaaaaah, un'altra giornata nell'apocalisse zombie Bisogna buttarsi nella routine quotidiana e a me piace sempre mettermi e fare un paio di pesi tutti i giorni Uff, grande E poi vorrei buttarmi a fare un po' di colazione con fagioli, schiaffi e carote Mentre tutto si prepara, c'è una bella docettina Aaaaaah, aspetta un attimo ma... Gennaro? Gennaro? Ma che ci fai là? Gennaro, ma chi ti ha messo qua? Cioè, chi ti... Cosa? Una trappola? No! Ah, cosa è successo? Dove sono? Oh no, deve essere stata opera vostra, infami! Ah 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 ah, proprio così E che cosa... Che cosa significa questo timer? Diciamo che per la prossima oretta sarai nostro ostaggio Nel mentre non diamo un'occhiata alla tua base, vero ragazzi? Diciamo che per una grande ba botta scena Ah 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 Diciamo che dall'ad involveili Aㅏah Merda Uff De oss Diciamo etc C'è Diciamo